Vendere le proprie fotografie online guadagnando dei soldi per finanziare la propria passione è una cosa che fa gola alla maggior parte dei fotografi che io conosca. Abbiamo visto nel corso di puntate precedenti come sia infatti possibile monetizzare il nostro lavoro come fotografi anche amatori perché nel momento in cui realizziamo delle buone immagini ci sono delle piattaforme già predisposte dove noi possiamo caricare le nostre immagini e posto che queste rispondano a tutta una serie di criteri di accettabilità vengono pubblicate su queste piattaforme dove acquirenti da tutto il mondo possono darci dei soldi in cambio del diritto a utilizzare l'immagine per i loro scopi quindi non stanno comprando l'immagine ma stanno comprando il diritto di utilizzarla. I diritti dell'immagine rimangono nostri ma noi cediamo tramite l'agenzia cediamo al cliente finale il diritto di utilizzare la nostra immagine lo possiamo fare n volte per la stessa immagine quindi la stessa immagine ci può anche arrivare a fruttare molti soldi. Ora come capite bene in un mondo come questo la competizione è molto alta e la competizione sicuramente passa anche attraverso la strumentazione che utilizziamo per realizzare la foto ovviamente c'è di mezzo la testa del fotografo quindi non è sufficiente avere la strumentazione top per avere una foto che vende anzi è molto più importante la testa perché se abbiamo strumentazione top e la testa non c'è possiamo fare tutte le foto che vogliamo ma se ci fotografiamo gli alluci e basta è difficile che diventiamo ricchi così. Ecco però che qualcuno mi ha fatto una domanda molto interessante le fotografie di stock e di microstock devono per forza essere post prodotte o possono essere caricate così come le abbiamo scattate. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia di microstock innanzitutto se vi interessa l'argomento io vi lascio linkata in card una playlist dove ho raccolto già diversi video in cui parlo di questo argomento ma mi è fatto obbligo morale di segnalarvi che se non volete perdere i prossimi contenuti non potete fare altro che iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto e attivando anche la campanella è l'unico modo per non perdersi i prossimi aggiornamenti perché ci saranno aggiornamenti su questo argomento ma dovete iscrivervi per poterli vedere per essere sicuri di non perdervi per cui il bottone qui sotto fate funzionare quei pollici molto bene torniamo al succo di questo video è stato uno di voi a farmi giustamente la domanda ma nel momento in cui io voglio monetizzare il mio lavoro e quindi voglio vendere le mie immagini o i miei video se è per quello è necessario passare dal computer e fare della post produzione oppure io posso prenderle e sbatterle fuori così allora la risposta è molto semplice ma nasconde qualche complicazione la risposta è basta che te le comprino perché non c'è risposta più facile di questa se tu scatti una fotografia la metti su una piattaforma di microstock e questa immagine viene comprata e fa tante vendite così com'è ma lì hai vinto tutto lì non hai avuto bisogno di perdere tempo a lavorare l'immagine a post produrla a modificarla l'hai semplicemente presa messa lì questo può significare due cose la prima è che hai avuto una fortuna incredibile la seconda è che quell'immagine o è eccezionalmente curata e di ottima fattura e quindi non c'era bisogno di lavorarla chissà quanto perché era già giusta in camera oppure e questo è molto più probabile perché un'immagine di ottima fattura può anche non riscuotere successo oppure il secondo caso è il caso di un'immagine che raffiguri e cristallizzi un momento di interesse particolare io faccio sempre l'esempio dell'omicidio Kennedy avete presente ci sono poche foto di quell'evento se ci fossero state macchine fotografiche di oggi all'epoca avremmo sicuramente alcune foto neanche una sola ma avremmo probabilmente almeno una foto che sarebbe diventata iconica fra l'altro ci sono foto iconiche di quel momento ma ne avremmo avute di voglio dire più truculente ma insomma avete capito nel momento in cui realizziamo una foto come quella è evidente che lì non c'è post produzione che tenga cioè l'omicidio Kennedy chi se ne frega degli arzigogoli delle finezze cioè è un momento storico importante potrei farvi altri esempi che conosciamo tutti avete presente la foto dei militari americani che piantano la bandiera la sappiamo tutti quella foto lì la conosciamo tutti è evidente che una foto di interesse alto come possono essere queste che ho citato ma non sono certo le uniche è evidente che foto come queste non hanno bisogno di post produzione foto come quelle all'epoca non c'erano ancora le piattaforme di microstock ma nel momento in cui noi realizziamo un'immagine che ha un interesse storico sociale e culturale di quella portata è evidente che la post produzione passa completamente in secondo piano il problema è che noi viviamo in un'epoca che ormai fuori dalla storia non sta succedendo quasi niente di storicamente degno di nota adesso forse con il conflitto in russia un pochino ci rientriamo perché sono cose che probabilmente vale la pena poi tenere a mente sono cose che possono rientrare nella storia ma l'occidente è un bel po di anni che vive in un contesto a storico a temporale sembra che siamo siamo immersi nella tecnologia ma non sta succedendo niente che dobbiamo ricordarci c'è politico che va politico che viene lo sportivo che va lo sportivo che viene ma ci scivola tutto addosso ed è molto difficile catturare dei momenti storici di questo tipo per cui io non ci scommetterei troppo sull'andare a realizzare foto di questo tipo fatta esclusione quindi per delle fotografie che cristallizzano un momento storico importante tutte le altre foto sono foto di consumo sono foto che i nostri clienti clienti dell'agenzia andranno a comprare perché assolvono a un bisogno specifico io ho bisogno di una foto di un pancake per il mio sito di pancake vado a comprare una foto che se faccio pancake dovrei farmela scattare ormai il mondo va così ho un'azienda che fa pancake prendo un'immagine di stock di un pancake e la uso per il mio sito non è un'immagine storica non è un'immagine che ha un particolare significato per me è utilitarismo la prendo perché mi serve per pubblicizzare una data cosa in un dato momento ora perché un cliente dovrebbe comprare la mia foto di un pancake piuttosto che quella di un altro si baserà sicuramente sul contesto perché magari sceglierà quella del pancake che somiglia di più ai suoi però tolto questo sceglierà la foto di fattura migliore perché una foto buona anche se non siamo esperti la riconosciamo tutti ormai tutti quanti sappiamo dire la differenza tra una foto fatta bene e una foto fatta male che non significa che siamo tutti capaci di realizzare la foto fatta bene però con il palese esempio davanti questa fa schifo questa è buona siamo capaci tutti a indicare la più bella ho detto la più bella è che non significa la più adatta quello è un altro discorso poi a toppare ci riescono sempre perché scelgono la meno adatta ma quello è un altro discorso a scegliere la più bella è abbastanza facile quindi il discorso è se noi vogliamo caricare le nostre foto senza fare la post produzione dobbiamo pensare che vogliamo essere comunque competitivi come facciamo essere competitivi contro dei concorrenti fotografi che la post produzione la fanno attenzione non è impossibile è un bel quesito è perché la risposta sembrerebbe essere vabbè ma la mia foto è imperfetta mentre la foto di uno che la migliora con photoshop mi batterà sempre in realtà non è così il punto però qual è se noi vogliamo essere competitivi quindi andare contro a gente che la post produzione la fa dobbiamo essere veramente dei draghi ad allestire i set o a gestire la luce o a insomma comporre la nostra fotografia direttamente in loco se noi siamo dei mostri ad allestire il nostro set quindi è senza una sbavatura senza imprecisioni senza imperfezioni e la luce è curata a quel punto è santo cielo clic e la foto è quella ed è giusta così va bene così la post produzione molto spesso va a sopperire a qualcosa che non siamo riusciti a realizzare durante il set che può essere uno svolazzo di un velo può essere un difetto sul prodotto che stiamo fotografando queste sono tutte cose a cui chiaramente si va a sopperire in fase di post produzione si va a cancellare il pelucco del maglione si va a togliere l'occhiaia si va a rimuovere il capello che si è posato sul nostro pancake perché succede sono tutte cose che si fanno se noi vogliamo essere competitivi contro avversari che la post produzione la fanno possiamo farlo e anzi io auspico che si lavori in questa direzione ma dobbiamo diventare dei draghi nel momento in cui si scatta dobbiamo diventare veramente dei mostri dobbiamo avere tutto sotto controllo e eseguire gli scatti alla perfezione a quel punto se i nostri scatti sono stracurati e lo shooting è stato gestito alla perfezione è possibilissimo che abbiamo delle immagini che possiamo caricare senza post produrle a quel punto possiamo scattare anche in jpeg questo significa che dobbiamo prendere una serie di accortezze ovviamente innanzitutto non possiamo più pensare di lavorare da soli abbiamo bisogno di almeno di un assistente abbiamo bisogno di qualcuno il cui compito non sia scattare quello è compito nostro noi dobbiamo scattare e abbiamo deciso abbiamo fatto i registi quindi abbiamo stabilito cosa ci doveva essere nella ripresa come doveva essere illuminata però poi abbiamo un assistente che ci posiziona le luci magari così che noi dobbiamo solo scattare e mentre noi scattiamo abbiamo sempre quell'assistente che si occupa se sono più di uno meglio abbiamo sempre qualcuno una persona due quello che è che si occupano di verificare il trucco della persona che stiamo fotografando quindi le occhiaie non le andrò a rimuovere in post produzione avrò una persona che si occupa di trucco e parrucco e che si mette lì a sistemare le eventuali occhiaie o imperfezioni con artifici femminili di cui non menziono i nomi perché mi sbaglierei però insomma makeup quindi nel momento in cui abbiamo un ritratto da fare abbiamo una persona dedicata che si mette lì e che ogni tot foto controlla e vede se ci sono se c'è la gocciolina di sudore da asciugare rifare il trucco vede se c'è il cappello fuori posto perché se ogni foto deve essere pubblicata così senza post produzione devono essere tutte perfette quindi ci vuole qualcuno che stia lì a controllare che siano tutte perfette e non possiamo farlo noi perché noi dobbiamo tenere sotto controllo la posa tenere un minimo di contatto con le persone con cui stiamo lavorando quindi dobbiamo anche fare un po gli animatori chiacchierare dire due parole non possiamo stare lì imbronciati scattare basta quindi abbiamo tante cose da tenere a mente tenere a mente le foto che abbiamo già fatto quelle che ancora ci mancano dobbiamo controllare che stia che la nostra visione si stia concretizzando che lo shooting stia venendo bene non ultimo abbiamo le cose tecniche da tenere sotto controllo quindi dobbiamo assicurarci che gli scatti siano giusti che la foto sia dritta che le luci siano giuste che il trigger abbia le batterie cariche che la macchina fotografica non si stia surriscaldando abbiamo così tante cose da tenere sotto controllo che non possiamo stare anche attenti che il trucco della modella non abbia sbavato sotto il mento ci vuole qualcuno che controlli queste cose per noi parlo di modella ma sarebbe la stessa cosa anche se stessimo facendo still life nel momento in cui posizioniamo delle cose su un tavolo di still life poi ci mettiamo a scattare magari non vediamo che è caduto un capello ci vuole qualcuno che stia lì e che controlli che non ci siano capelli che non ci sia polvere che all'occorrenza puliscano senza che noi dobbiamo intervenire senza che noi dobbiamo mollare la macchina fotografica quindi noi stiamo lì a scattare ci deve essere qualcuno che si occupa di tutte queste cose al posto nostro ovviamente un assistente quindi una persona anche pagata non deve essere uno schiavo che sta lì a fare quello che noi gli diciamo sotto la minaccia di un taser e intendiamoci ovviamente ahimè esistono generi fotografici in cui la post produzione è inevitabile quindi ci sono molte cose che rimangono precluse se vogliamo pubblicare le nostre fotografie senza la post produzione vi faccio alcuni esempi focus stacking non lo possiamo fare più bracketing non lo possiamo fare più è pur sempre vero che ci sono delle feature in camera che ci permettono magari di fare doppie esposizioni esistono delle modalità con cui è possibile fare delle esposizioni lunghe quindi possiamo anche fare dei paesaggi con esposizioni lunghe vi faccio per dire se vogliamo fare un uno street view o un paesaggio e ci sono delle persone uno dice devo rimuovere le persone dopo in photoshop allora quella non la posso più fare in realtà la puoi fare fai un'esposizione molto lunga in maniera tale che le persone muovendosi non vengano impressionate sul sensore quindi ti fai una posa molto molto lunga in maniera tale che le persone e le macchine muovendosi non vengano catturate dal sensore ci sono molte cose che si possono fare ce ne sono altre che non si possono fare più ovviamente qualunque cosa ci sia di impreciso e di imperfetto nella nostra foto o rimane così o quella foto non viene pubblicata e molte volte il fatto che ci sia un errore nella foto significa che poi non viene accettata non ultimo dobbiamo anche considerare che la post produzione è un metodo che noi possiamo applicare da un lato per cercare di incanalarci verso uno stile che sia nostro quindi scattare pum e mettere su un conto ma se poi io lavoro l'immagine in maniera che sia non dico riconoscibile perché fotografia di stock non deve essere riconoscibile però che abbia un qualcosa di mio dentro anche a livello di luce di colore fatto in post intendo perché un conto è l'illuminazione però poi il color grading il mood dell'immagine lo si stabilisce anche dopo quindi è un peccato perdere questa parte per quanto mi riguarda è un peccato e dobbiamo anche considerare che il fatto di fare una post produzione di un certo tipo è un mezzo con il quale noi puntiamo a un pubblico specifico per quell'immagine quindi per esempio se io sto facendo una foto di un bellissimo tramonto nel deserto posso pensare di sovrassaturare un pochino la mia immagine se sto pensando magari a un'agenzia di viaggi le agenzie di viaggi ti fanno vedere quelle foto tipo cartolina di quei posti usano delle immagini molto sature molto cariche la maggior parte delle volte viceversa se sto pensando a un target magari un po più cinematografico posso pensare di fare il contrario di desaturarla e di aumentare un po il contrasto sapete che nel cinema adesso si tende a non so se avete visto film recenti o anche serie tv si tende a desaturare abbastanza ad avere quelle tinte abbastanza neutre sto pensando anche di fare un video proprio su questo argomento perché l'ho trovato molto affascinante fatemi sapere in un commento se vi interessa nel cinema adesso si tende a desaturare un pochino quindi si lascia molto all'immaginazione di chi guarda quindi capito che sono cose molto sottili ovviamente non sto parlando di meno 90 o di più 75 sul fader della saturazione sto parlando di un meno 8 di un più 12 è una roba veramente sottile però è più che sufficiente per veicolare la nostra immagine verso un target specifico nel momento in cui noi carichiamo la nostra immagine senza post produzione stiamo rinunciando a dirigere la nostra immagine a un pubblico specifico e questo ovviamente fa sì che l'immagine di qualcun altro potrebbe essere più adatta della nostra anche se la nostra è più bella perché se la nostra è più adatta però quella di qualcun altro pur essendo meno adatta a un trattamento che la rende più appetibile agli occhi di un compratore ecco che ci ha battuto questo vi dicevo prima quando parlavo di fotografia bella o fotografia giusta una fotografia con un trattamento specifico può apparire più giusta di una foto bella e quindi il cliente finale si fa un po' gabbare dal look dell'immagine e non guarda più come è stata realizzata se è vera o se è finta se è scattata tutta per davvero se è un fotomontaggio guarda solo l'effetto finale proprio come faranno i destinatari finali di quell'immagine perché le immagini di microstock vanno per pubblicità di solito pubblicità o articoli quindi comunque vanno per catturare l'attenzione di un pubblico e quindi l'immagine che cattura maggiormente l'attenzione di un pubblico è quella che vince lo so avete ragione l'ho fatta un po' lunga semplicemente per dirvi che si si possono caricare foto di microstock senza nessuna post produzione quindi senza nemmeno passare per il computer ma corriamo il rischio che le nostre immagini vengano costantemente scartate in favore di altre immagini che invece la post produzione l'hanno avuta ho fatto un giro un po' lungo per dirvi questa cosa ma ci tenevo a specificare bene tutti quanti i punti ovviamente ci tengo anche a specificare che se noi abbiamo uno stile di scatto un po' vecchia maniera quindi mettiamo tutto a posto in fase di scatto e abbiamo una fotografia perfetta accuratissima nei minimi dettagli con degli artifici scenici che sono anche difficili da ricreare in post produzione quindi sto pensando a luci colori ma anche soprattutto costumi e scenografie se noi imbastiamo una cosa del genere anche se non facciamo la post produzione è difficile perché è difficile che qualcuno ci batta semplicemente perché ha fatto la post perché queste sono cose che ormai nessuno sa più fare nessuno sa nemmeno io e attenzione non voglio dirvi che sono bravo io non lo so fare nemmeno io perché comunque anch'io sono dedito alla post produzione anch'io uso photoshop e quindi se devo fare una roba molto complessa è molto facile che io la faccia finta il fatto di allestire una scena vera quindi magari con tante comparse con più piani con una scena molto profonda con una cura del dettaglio io l'ho vista fare questa cosa l'ho vista fare a una fotografa di moda molto molto brava con cui ho avuto il piacere di scambiare due parole ho visto i suoi lavori non faccio il nome perché non credo che gradirebbe però ho visto fare queste cose mi è caduta la mandibola per terra e mi son detto effettivamente a te photoshop non serve perché tu hai una scena così perfetta perché ti sei messa lì hai preso le persone le hai messe in una posizione specifica ogni persona aveva un vestito di scena fatta apposta con curato fino ai minimi dettagli cioè con la spilla presa in un mercatino con il cappello col diadema preso in un altro mercatino una cura del dettaglio paranoica allucinante un lavoro del genere è evidente che io non me la sentirei mai di dire che non è valido perché non è passato da photoshop lì è un altro il lavoro lì non è smanettare con due fader lì è stato costruire la scena per davvero con le persone vere con gli oggetti veri quello è un lavoro maniacale che nessun photoshop potrà mai sostituire ma questa cosa non la sa più fare quasi nessuno e comunque nessuno nessun cliente finale paga più per una roba del genere perché è molto più conveniente prendere il cugino di turno e dirgli mettimi due robe dentro con photoshop piuttosto che pagare una fotografa vera di quelle di una volta per allestirti una scena del genere perché i costi sono assolutamente diversi insomma in soldoni se vogliamo caricare le nostre foto senza passare per il computer sì lo possiamo fare e sì è anche possibile che vendano ovviamente dobbiamo maturare noi un pochettino di accortezze per fare sì che le nostre immagini siano corrette anche se non sono state post prodotte un consiglio su tutti che mi sento di darvi è se scattate all'aperto scattate all'ora giusta del giorno scattate magari durante la golden hour o la blue hour quando la luce è migliore in quel modo correte meno il rischio che ci siano luci parassita o cose indesiderate dentro nella vostra immagine se fate fotografia di prodotto curate all'inverosimile il set pulite tutto illuminate il prodotto nella maniera migliore possibile dovete farlo giusto in camera non avrete aiuti dopo quindi dovete azzeccarlo giusto in camera ed è difficile fare foto prodotto solo con le luci senza post produzione nemmeno io ci riesco io faccio la post produzione tanta quando faccio una foto di prodotto magari uso il light painting con l'esposizione multipla significa che faccio dieci foto della stessa cosa e poi le miscelo oppure faccio il focus stacking faccio cinque foto dello stesso anello e poi le miscelo è impossibile anche per me realizzare delle fotografie fatte bene senza post produzione perché è una cosa molto difficile non è impossibile e non è impossibile venderle talvolta anche a me capita di realizzare degli scatti senza nessuna post produzione caricarli così di vedere che vengono venduti capita però non vi nascondo che è molto molto difficile quindi con questo che cosa voglio dire se state cominciando e magari non avete un computer prestante potete cominciare a caricare dei lavori sulle piattaforme di microstock senza fare la post potete cominciare a caricarli così come sono e da lì vedete se vengono comprati guadagnate un po di soldi potete comprarvi quello che vi manca se non vendete niente lì c'è anche da fare un ragionamento perché comunque se non vendete niente è anche possibile che siano i soggetti che avete scelto che non hanno l'appeal necessario a essere venduti può essere che siano argomenti che non interessano può essere che siate acerbi di tecnica però lì ve le avrebbero anche rifiutate diciamo se arrivate a caricarle probabilmente la tecnica un pochino c'è però forse mancano i soggetti forse mancano le idee e comunque lì è il caso di fare dei ragionamenti per decidere in che direzione procedere se vi trovate bloccati in una situazione di questo tipo io vi invito a scrivermi nei commenti perché magari posso darvi qualche buon consiglio avendo io superato da tempo quella fase bene amici siamo giunti al termine di questo noiosissimo video in cui vi ho spiegato perché secondo me è molto meglio fare la post produzione sulle vostre immagini poca non invasiva però comunque è meglio farla se riuscite a non farla vuol dire che siete molto bravi in fase di scatto ma è comunque un vantaggio riuscire a fare un minimo di post siamo ciò non di meno arrivati al termine di questo video quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale perché arriveranno nuovi argomenti su questo tema o su altri spero sempre di vostro interesse lasciate anche un like a questo video perché comunque se l'avete guardato fin qui vuol dire che il mondo del microstock un po vi affascina e io vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale